Allora, oggi ragazzi gli effetti speciali sono finiti perché non stiamo più arrivando a 10.000 mi piace Quindi se volete gli effetti speciali dal prossimo video lasciate mi raccomando il mi piace subito Subito, ora, ora, inizio il video, pam, subito, di fiducia, grazie Nel video di oggi ragazzi, come è stato il titolo, andremo a guardare il giocatore più strano di sempre di Fortnite Un ragazzo che è veramente particolare Che è riuscito a vincere veramente un sacco di soldi senza saper giocare Oh, 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 senza saper giocare così bene Perché adesso capirete che cosa si tratta Detto questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, quindi spolliciate, iscrivetevi tutti quanti al canale E ragazzi, non dimenticatevi di usare il mio codice creatore che ha sempre quello, ovvero, eccolo qua ZaneSG e vi ricordo che ogni due settimane va rinserito perché se no scade Quindi mi raccomando, usatelo tutti quanti Detto questo, ora partiamo con il video e buona visione E il ragazzo, e il... Non sa parlare, oh, Zane, svegliarsi Sì, allora E il ragazzo del quale, appunto, andremo a guardare oggi i suoi video Anzi, il fenomeno, il pro player, il mostro dei mostri, il mostro di Loch Ness È MohamedSR4 E per quelli che seguono la scena competitiva di Fortnite Già sanno, già sanno di che cosa si tratta Di un giocatore particolare E ragazzi, questo video si chiama... Questo video si chiama... Questa ragazza... Il titolo del video è... Questo ragazzo è arrivato secondo alla Cash Cup Tra l'altro la Cash Cup è quella dell'anno scorso Quindi quelle che ancora pagavano tanti, ma tanti soldi Quindi partiamo e ragazzi, guardiamoci questo video per, diciamo, introdurre questo MohamedSR4 Che è un po' particolare Questo ragazzo, in pratica, ha vinto, tipo, 8-10 mila dollari Non so quanti ne ha vinti Ne ha vinti tantissimi, dopo lo andremo a vedere E li ha vinti giocando così E se non l'avete ancora visto, raga... Eh, non so parlare Torno un attimo indietro Guardate quanti miss fa Entra così Uno Due Tre Quattro Raga, ha fatto quattro miss in un box con il tac E questo giocatore è arrivato secondo alla Cash Cup E c'è qualcosa che non va Vediamo, vediamo, vediamo Thompson ancora ha il periodo... No, non è Thompson, ce l'ho in diretta Ok, qua non riesce a ditare Oh! E questa clip è famosissima perché cade L'altro va, 291 spettatori che stanno guardando questa cosa Era messo benissimo alla Cash Cup E ragazzi, questo qua era il top player da console Guardatelo qua Cioè, ci sta alla fine missare Però, diciamo che è un po' particolare come giocatore Ha fatto dei miss abbastanza imbarzanti Tipo, questo qua è molto famoso come miss Bello Ha preso la mira col pump E' arrivato il tipo E ha cambiato direzione e ha sparato E poi, raga, vi ricordo che questo ragazzo gioca da controller E un anno e mezzo fa La mira assistita era completamente diversa da quella di adesso Adesso è buona e tutto Ma un anno fa, raga, la mira assistita era due anni fa La mira assistita era veramente senza senso Perché c'era la legacy che faceva dei danni incredibili Cosa succede qua? Eh, mi sa che qua ci muore, vabbè In realtà qua non c'è Cioè, capita, capita di morire col pump Capita, capita a tutti Ok Vabbè Infatti c'è nulla di strano L'altro l'ha cechinato Se sobrava l'altro Però, questo qua è il ragazzo che è arrivato secondo la cash cup Farà E questo qua ragazzi era Mua, vado a essere quattro Guardiamoci un altro video suo E questo è un altro Questo qua non è lui ragazzi Questa è una clip famosissima di uno che gioca CSGO Si è sparato con il ranciarazzi in faccia Si, avete visto bene ragazzi Avete visto bene Si è sparato con il ranciarazzi in faccia Ranciarazzi Oggi non è giornata Non so parlare Non so più parlare Aiuto Eh perché non lasciate più mi piace Se non lasciate più mi piace ragazzi Non so più parlare Quindi spollicciate Ok Di nuovo con il ranciarazzi Eh sì Eh immaginavo Immaginavo Eh immaginavo Ok Dopo tante volte che diciamo si è fatto male Ha sbagliato le cose È diventato insane Vediamo ragazzi uno solo clip insane Ma sapete di essere in live Ma cos'è sta clip Aveva dieci spettatori Qua non era ancora nato Qua erano gli inizi di questo imperatore Di questo fenomeno Qua ragazzi infatti fanno vedere Quanti soldi ha vinto sto ragazzo Questo ragazzo ha 6.000 dollari vinti Sono tantissimi ragazzi Sono tantissimi Voi che state guardando questi video ragazzi Quanti soldi avete vinto su Fortnite Questo fenomeno Ne ha vinti 6.000 6.000 E non sa giocare Sta cosa è assurda È un fenomeno È un fenomeno 6.000 dollari vinti sono tantissimi Ah più soldi vinti di pizza Cioè più di me Vabbè io non è che gioco il competitive Però comunque di gente che gioca il competitive Guardalo Cioè non sto capendo Sta panicando Questa è un'arena Vabbè ci sta come clip Alla fine Oh vabbè qua nulla di strano Però ci do uno Tra l'altro l'ha missato Non c'è nulla di strano Ok 2 miss 3 4 Vabbè Difficile come shot Oh L'ucciderà Eeeh L'ha ucciso GG C'hai fatta Mohamed Vabbè qua non è che Ha cechinato Cioè nel senso ci sta Mi stare col cechino Vabbè qua un po' Ma ci sta Fino Eh un po' meno Un po' meno Dai cechina Vabbè Alla fine ragazzi Fino a quando sbaglia a sparare Non c'è nulla di strano Mi sa che il suo account è buggato Perché io l'ho visto dentro il mirino Vediamo No ragazzi Mohamed Ma perché c'ha 130 di ping Ma non sono appena accorto Eh ma è il ping Questo ragazzo è forte in realtà Mi sa che è il ping Non so dove gioca Forse non è Non lo so E questo qua ragazzi Era Mohamed Che è un fenomeno È un fenomeno Non so cosa dirvi Ed eccoci con un altro clip Dove finalmente ragazzi Il nostro Mohamed È passato a computer In questo momento ragazzi Ha 240 fps E mi sono appena accorto Che in realtà Lui ha 100 di ping sempre Quindi è anche per quello Che è in misa Cioè alla fine c'è Cioè ci Oh no invece non l'ha misato Ok Hai ranas Pensate a Mohamed Ok Vediamolo in creativa Con 20 di ping Vabbè 20 di ping Ci sa non è nulla È giocabilissimo Vediamo come è free build Attenzione È un tunnel un po' particolare Considerando che questa ragazza Ha vinto 6.000 dollari Un po' particolari Come tunnel Potrebbero essere sicuramente Più belli Più puliti Però Non so cosa dire ragazzi Non so veramente cosa dire E è un fenomeno È un fenomeno Perché se giochi così male Se sei Diciamo Se non sei schillato E riesci a vincere Chi era Chi era ma Era un problema Era un vitality Non so chi Non si era visto bene Questa qua comunque Non so 319 punti Dov'è Arena Cos'è cash cup Cos'è dream Non so che cos'è C'è anche un dream Ragazzi Ok Vabbè ci sta sbagliare Un po' di edit Comunque a 120 di ping Ve lo ricordo Non so per quale motivo Ma 120 di ping Quindi questa clip Fino ad ora Non ha molto senso Come cosa Me ne sono appena accorto Adesso che c'è 120 di ping Quindi ci sta Che sbaglio editare Poi è da pad C'è il senso Da pad senti di più Il lag Oh Chi è Mr. Savage Quello Sì di Mr. Savage Chi era Mamma mia Quanta ne so Signori ZenSG Ma è Mr. Savage Eh sì è Mr. Savage Mamma mia Ma quanta ne so E perché il titolo diceva Uccido i pro player Quindi boh Ah infatti Killing Mr. Savage Niente Allora Oh Entra nel box Famo con la mitralietta E l'ha ucciso così È un giocatore Molto particolare Qua si ha accacciato pure Sto fight È un fenomeno E infatti Non poteva accacciarlo Non poteva accacciarlo Vabbè qua ci sta Che lag Che sbaglia le cose Ragazzi Sono in 56 Alla safe Della 50-50 Quasi E niente è morto Ok Sei un po' arrabbiato E questo qua ragazzotti Era Mohamed SR4 Io ragazzi ve lo dico Se volete Posso provare a contattarlo Per farci un video insieme È molto difficile Perché in questo momento È molto conosciuto Però ci possiamo provare E no ragazzotti Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Asciate un bel mi piace E sì lo so Che lì manca il quadro Infatti è qua È caduto Il nostro Kenkaneki E devo attaccarlo Se di nuovo Alla dire Detto questo Noi ragazzi Ci vediamo domani Con un nuovo video Mi raccomando Un bel mi piace Iscrivetevi tutti quanti Al canale E ragazzi Vi ricordo che Oggi che state guardando Questo video Farò la reaction Ai vostri montage Quindi mi raccomando Ragazzi Caricate i vostri video Detto questo Noi ci vediamo domani Se c'è tutto Bella